Adesso che solo oggi siano sbarcati più di 200 clandestini, il problema siano gli italiani, i ragazzi, i baristi, i ristoratori, i lavoratori, i giovani, gli anziani col cagnolino, è surreale. Questo è un governo che non è capace di difendere i confini, la salute e i risparmi degli italiani e se la prende con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire, è una follia. Il mercato del divertimento, il fatturato del divertimento a livello annuo in Italia si stima su 4 miliardi, un miliardo di questo è dato al gettito e quindi credo che un provvedimento di questo tipo sia importante, soprattutto sulla ricaduta che avrà sui dipendenti, sull'indotto del settore del divertimento. Però prima di chiudere interamente un settore io ci avrei pensato due volte. Beh capisco che lui debba andare in vacanza e si debba concedere dei giorni di relax, ci mancherebbe altro, però se lui è disponibile a venire il 18 alla Versiliana sono disponibile a fare un confronto in quel giorno o in altra data decisa da lui, quindi io sono a disposizione anche il 18.